Ciao ragazze, è un nuovo video outfit e vi faccio vedere l'outfit di oggi che è martedì sto andando al lavoro I capelli sono rimasti abbastanza ondulati, adesso volevo fare qualche foto un pochino artistica Occhiali rossi questi qua sono quelli di Primark, molto plasticosi Il vestito è molto scollato quindi non badate Ho messo questo rossetto che è il color riche di L'Oreal E' quello nuovo che ho comprato ma non mi sembra tanto diverso da quello della New York color che ho Vabbè devo testarlo tutto il giorno poi vi farò una recensione più profondita Trucco sui toni del bianco e del rosso con l'eyeliner viola Semplicissimo Poi orecchini queste specie ciliegie rosse che sono due puntini Sembra una ciliegia, però invece sono due puntini, sapete questi orecchini qua l'anno scorso erano usciti un sacco E come abito, quindi outfit comunque semplice, come abito questo abitino qui rosso che ho preso al banchetto di 4 euro Molto carino, è un abitino che segna bene la vita perché viene tagliato proprio qui sotto il seno Ha una bellissima scollatura un po' prorompente Dovrei metterci sotto qualcosa, adesso devo valutare se ho qualcosa perché le cose basic io non le ho Sennò vedranno le grazie, si vede solo poi il seno Non è che è una scollatura super provocante però avendo un po' di seno si nota E la balsa qua sotto, il vestitino in cotone ha questa balsa un po' più leggera con questi fiorillini L'ho abbinato a queste zeppe rosse di talli E questa borsa nera che non c'entra molto in realtà però fa molto un po' così diva anni 50 Quindi l'ho voluta assolutamente utilizzare anche se dovrebbe essere un po' più lungo il vestito Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo, ciao!